Dopo le segnalazioni dei cittadini per la presenza di Blatt e l'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese, è subito risposto. Questa notte infatti è stato svolto il primo intervento di deblattizzazione con una ditta di disinfestazione di Avellino con il supporto logistico per questioni di viabilità della protezione civile di Battipaglia. L'attività è stata intrapresa dalle 23 di ieri e poi proseguita per tutto il rione centro. Fissato anche il calendario dei prossimi interventi che, come annunciato dalla sindaca Cecilia Francese, si svolgeranno martedì 10 e venerdì 13 luglio. Da ricordare che proprio ad inizio settimana era stato annunciato l'affidamento alla ditta vellinese con determina dirigenziale a firma dell'ingegnere Carmine Salerno e solo dopo pochi giorni è stata intrapresa l'opera di sanificazione di rete fognare e caritoie che proseguirà nell'intero circuito cittadino. L'amministrazione della sindaca Cecilia Francese quindi si è subito attivata per completare l'operazione che nella determina non risulta completa da parte dell'azienda sanitaria Salerno II, detentrice del servizio di sanificazione. L'impegno di spese è pari a 3.050 euro per dare un servizio richiesto da numerosi battipagliesi che lamentavano il proliferare di blatte in tutte le zone della città nelle scorse settimane.